Allora Stefano, sei in Accademia da marzo, da pochissimo. Come è stato per te entrare in Accademia? Cosa hai cambiato? La tua esperienza di questa entrata in Ampi? Sì, intanto ne sono molto orgoglioso e felice di farne parte. Questo ovviamente mi dà motivo di crescere sempre, di imparare sempre di più e di far sempre meglio quello che facciamo. È stata un'esperienza bellissima e anche dura perché è successa in un momento in cui avevamo l'apertura del nuovo locale per cui è un periodo molto molto intenso, però con maggior ragione è stata una soddisfazione molto grande. Sono felicissimo di far parte di questa famiglia e di avere un continuo scambio di pareri e di conoscenze con i miei colleghi. Questo mi dà motivo di andare sempre avanti con la ricerca, con la cura dei dettagli, con l'innovazione senza mai dimenticare la tradizione, da dove veniamo e chi siamo.